Salve a tutti e benvenuti a un nuovo webinar di SiteGround. Io sono Luca Rodino e sono responsabile per i servizi e il mercato italiano di SiteGround. Per chi non ci conoscesse, SiteGround è il più grande hosting provider indipendente al mondo, nonché uno dei tre hosting provider al mondo, raccomandati ufficialmente da WordPress.org. Finalmente, dopo le vacanze, torniamo a fare i nostri consueti webinar. Vediamo che anche questa volta siete tantissimi iscritti e questa cosa mi fa piacere ovviamente perché l'argomento e l'ospite che ho invitato sono sicuramente di interesse per tutti quanti. Come sapete, questo primo webinar post-estate è dedicato a una tematica SEO che spesso viene citata, ma che anche dalle risposte che avete dato nel sondaggio qua sotto, vediamo che è una cosa che è conosciuta ma non applicata in profondità dagli utenti. Quindi, allora, iniziamo subito con portare online con noi l'ospite di questa sera, che è Francesco Margherita, dovrebbe arrivare. Eccolo qua, Francesco. Allora, due parole ovviamente su Francesco. Potrei stare qua delle ore. Francesco è sociologo, è scrittore, è consulente SEO, è brand ambassador di SEMrush, è curatore di un suo blog che si chiama seogarden.net e soprattutto il motivo per cui l'ho conosciuto io principalmente, per cui l'ho seguito per vario tempo, e lo seguo ancora, è la community Facebook che lui tiene, appunto su Facebook, con oltre 31.000 iscritti, se non sbaglio, una grandissima community chiamata Fatti di SEO. E ovviamente si parla di SEO principalmente. E di quello si parla. Ed è il motivo per cui ti abbiamo invitato qua. Perché ritengo che la link building, di quello di cui andrei a parlare oggi, è una tematica, come dicevo, che tutti hanno già sentito nominare qualche volta, ma che poi in realtà nessuno applica realmente. Io ho proposto le domande, chi non ha risposto, lo faccio qua sotto nella sezione polls, dove si chiede, cosa ne sai di link building? L'hai mai sentito nominare? L'hai mai utilizzata? E vedo che la maggior parte delle persone ha risposto che la conosce, non l'ha applicata, ma sarebbe interessata a capirne di più e ovviamente ad applicarla. Quindi siamo perfettamente in target. È perfetto l'argomento di stasera ed è perfetto l'ospite. Due considerazioni di rito, come al solito, prima di lasciare la parola a Francesco. Usate la chat come volete. Potete scrivere, salutare, commentare come volete, ma se avete delle domande, delle domande da fare a Francesco o a me, fate nella sezione qua sotto che si chiama Ask a Question, mi raccomando. Perché il nostro webinar si divide in due momenti. Un primo momento di presentazione per l'appunto di Francesco sul tema link building. Il secondo momento è un momento di domande libere alle quali daremo risposta. Quindi facciamo un 40-20, diciamo, come tempistiche. Però per avere risposta alle vostre domande dovete per forza scrivere in Ask a Question, se no ci perdiamo nella chat con tutti quanti che scrivono. Detto questo, l'ultima cosa è che se per qualsiasi motivo dovete scappare, perché non riuscite per gli orari, non riuscite a seguire il webinar fino in fondo, eh, lo so, lo so, ma qualcuno scappa. Potete vedere tutto il webinar tranquillamente, perché siccome siete iscritti arriverà domani mattina, più o meno, una mail con sia la registrazione del webinar, sia le slide della presentazione, anche se sono brevi, ma sono pregne, perché avranno tutti i link interessanti di Francesco. Inoltre, ultimissima cosa, scusate, prima che vi dimentico, nella sezione polls, adesso, dopo, quando volete, votate anche sulla domanda sugli orari del webinar, perché siccome noi teniamo sempre il webinar alle 7, ma potrebbe essere anche un orario che non a tutti è congeniale, proviamo a vedere cosa vi interessa di più come orario e posso tranquillamente modificare gli orari dei prossimi webinar. Detto questo, io mi taccio, ti lascio tutto il campo libero a te e ci vediamo dopo per la sezione delle domande. Ciao! Allora, grazie Luca, grazie a tutti voi che vi siete registrati, devo dire che vi siete registrati in tantissimi e che ognuno di voi si è registrato molto, cioè si è molto, si è interamente, anche io mi sono registrato a questo webinar tantissimo. Ringrazio molto l'utente che qui nei commenti ha scritto seogarden.net ha i pulsanti che fanno layout shift. Dopo la diretta ti vengo a prendere a casa, ti offro una birra e ti spiego il layout shift. E quindi oggi, ma con grande umiltà, con grande umiltà, con grande allegria, oggi bastonatemi pure se mi sbaglio, parliamo di link building, ma in realtà non parliamo di link building, parliamo di posizionamento. Vedete queste lucine che ci sono qui? Queste lucine sono un po' delle idee, non è la camera sporca, sono delle idee che mi stanno venendo in questo momento. Allora io vorrei raccontarvi proprio come mi muovo sui progetti veri, cioè come mi muoverei per sviluppare il posizionamento di un sito vero. Prima di tutto io vi faccio vedere un po' di informazioni e di inquadramento, vediamo se riesco a scerare. Dunque, scera finestra, condividi. Ecco, sai quando clicchi condividi? E funzionava prima, ecco qua. Sta funzionando, lo vedo. Sì, 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 sì. A via presentazione. Allora, eccola qua. Chiudiamo il messaggio. Oh, vedete, allora di cosa parliamo oggi? Perché non si dica mai che io non le faccio le slide, le faccio, le faccio poche, ma mi servono giusto per orientarmi. Quale link building non funziona? Allora, ragazzi, io vado dritto. La link building che non funziona è quella delle liste, secondo me, di che sto parlando. Chi fa il mio mestiere riceve molto spesso da fantomatici partner che non conosce, ma che dovrebbe forse conoscere, una serie di liste. Sono proprio degli Excel, con un sacco di numeretti dentro. E ci sono un sacco di siti in queste liste che sono organizzati per queste metriche, che, peraltro, non sono le metriche di Google. Cioè, ti dice qual è il domain authority, qual è il mods rank, qual è lo zoom rank, in base a tutti questi software, fatti benissimo, certamente, ma che non fanno altro che rilevare statisticamente il traffico e anche il valore di un sito in base a metriche che sono interne, sono proprietarie. Che sto dicendo? Sto dicendo che abbiamo tutta una serie di valori, tra cui anche gli IP, no? E ci sono questi siti suddivisi per, fanno parte di queste liste, sono suddivisi per tipologie. Ci sono i magazine, ci sono i siti aziendali, eccetera. In linea di massima sono quasi sempre magazine, ok? Tipo l'Eco della Val qualcosa, la Voce di Sondrio, Sondesto, diciamo, dei giornali, che quando poi ci clicchi sopra, sembrano proprio veri, è vero, e arrivi là sopra e trovi questi giornali, sembrano veri, non mi fate dire troppe cose, ci sono proprio questi link nel menu principale e ti accorgi che questi sono giornali che parlano di cronaca, parlano di politica, parlano di cinema, parlano di economia, parlano di costume, parlano di bellezza, di salute, insomma, parlano di tutto, ma tutti, eh, cioè, non è che un sito parla di una cosa e uno ne parla di un'altra, parlano proprio di qualunque cosa e si chiamano l'Eco della Punta di Tacco di Canicattì. Ora, voi capirete che per quanto sembrino veri questi siti, sono bellissimi, quando li vedi sono meravigliosi, in linea di massima, sono siti un po' fuori tema, nel senso che parlando di tutto, non parlano di un accidente di niente, ma poi, soprattutto, questi siti, io vi dico queste cose, mi preoccupo anche un po', perché domani mattina mi arriveranno bombardamenti di link spam, perché tutte queste cose che vi sto dicendo non fanno molto gioco a chi dimestire e vende i backlink, però a me non mi importa tantissimo, perché tanto ho i pulsanti sul blog seogarden.net che fanno layout shift, quindi vedi tu perché mi dovrei preoccupare dei backlink spam. Comunque, va bene, dicevo, tutti questi backlink, in verità, Google li vede, si accorge che sono sempre gli stessi siti, perché vedete, il grosso problema di queste liste è che sono appunto delle liste, cioè, chi compra i backlink per un certo quantitativo economico, cioè chi vuole il backlink che costa 50 euro, Google lo sa quali sono, perché queste liste, così come arrivano a me, arrivano ai miei colleghi, e quindi non ci mette tantissimo Google a, come dire, a mettere insieme i dati e a trarre delle conclusioni, cioè, quando vedi che lo stesso sito molto generico, molto generalista, linka ad altri siti nello stesso segmento, insomma, è abbastanza chiaro per chi ha il potere di calcolo pressoché infinito, appunto Google, e la volontà di incrociare i dati, ma due due dati proprio, roba da niente, vediamo che diventa abbastanza semplice sgamarli. Che cosa fa Google? Penalizza? Dunque, da quando Penguin, anni or sono, è stato integrato nel core di Google, Penguin era l'algoritmo che valutava i backlink di bassa qualità e penalizzava i siti, da quando Penguin è stato introdotto, credo risalga al 2016, 2017, insomma, una roba vecchissima, le penalizzazioni si sono fatte granulari, nel senso, la penalizzazione non riguarda più tutto il sito, ma semplicemente la pagina che ha ricevuto il link. In linea di massima, però, negli ultimi anni è successo che Google non penalizza neanche più di tanto questi link qua, quelli che stanno dentro le liste. Non li penalizza, li ignora, per cui, questi 50 euro che hai speso per comprarti il link da Lego della Val Capoccia sono buttati, non ci fai niente. Ma qual è il problema? Il problema è che chi ti vende i backlink, le agenzie di backlink, ecco, se non ti condividono il piano preciso che hanno fatto, e di questo parliamo stamattina, se ti vendono un pacchetto a scatola chiusa, probabilmente dentro quella scatola chiusa c'è, come si dice, a sorpresa, e qual è la sorpresa? è che ti stanno vendendo appunto i link da queste liste che sono sempre uguali, sono sempre le stesse che girano questi siti che non ci vuole niente a capire che sono, diciamo così, non proprio fantasmagorici. E allora che cosa ti sto dicendo? Ti sto dicendo che quando compri un servizio di link building devi comprare innanzitutto una pianificazione strategica per la link building, cioè il tuo interlocutore, chi te li sta vendendo, ti deve dire come si vuole, muovere, dove li vuole andare a prendere, quali sono gli interlocutori trasversali, cosa di cui parliamo anche stasera, buonasera a tutti, io vedo che qui ci sono commenti vari, nessuno ancora mi si è girato malamente contro, ma succederà presto, vedrete, no non è vero, io mi comporto bene, poi sono anche credibile, sono rispettabile, guardate che barba bianca che ho amici, quindi la link building che non funziona, quella direi che non vi suggerisco, è sicuramente quella comprata a scatola chiusa, ma sapeste quanti imprenditori comprano il servizio di link building senza sapere che cosa si stanno comprando, poi a un certo punto, vedendo che sono passati due anni, hanno speso 900 euro al mese, Analytics è piatto come una tavola, cioè non si è alzato di niente, di niente, allora dice, senti, ma questi link non è che mi vorresti dire da dove li stai prendendo, tipo quali sono i domini che mi stai facendo puntare sul sito mio, ecco, quando questa domanda te la fai due anni dopo, è un po' tardi, forse dovresti fartela prima, che ne pensi? Ok, parliamo invece di che cos'è, questo è il secondo punto, che cos'è una relazione tra siti web, ecco, una relazione tra siti web presuppone che noi diamo un significato al termine backlink, ok, un backlink inteso in senso strettamente informatico, dovrebbe essere un collegamento ipertestuale che viene computato da Google, entra nel link graph, cioè il grafo in cui la rilevanza dei backlink viene appunto misurata e può servire appunto a gonfiare di rilevanza una pagina web oppure un sito web, quindi collegamento ipertestuale tra un sito e l'altro che serve a trasferire valore di posizionamento, questo dovrebbe essere il backlink. Questa definizione però oggi ci va un po' stretta, sarebbe forse meglio prendere a considerare il backlink come qualcosa di altro, cioè liberiamoci un po' da tutti questi termini macchinosi e abbracciamo un po' di sana umanità, peraltro diciamo negli ultimi nell'ultimo anno e nove mesi diciamo nell'ultimo anno e mezzo via non è che ne abbiamo abbracciato tantissima di umanità, quindi abbracciamola adesso. Un backlink potrebbe essere considerato come una relazione tra non due siti web ma prima di tutto due persone, due persone che concorrono per creare valore per il loro pubblico di riferimento, ok? Cioè una relazione reale fatta di momenti di congiunzione tra persone che lo ripeto perché è importante concorrono concorrono a creare corrono insieme per creare valore per il loro rispettivo pubblico di riferimento e tu a questo punto mi dirai e ho capito però io che ho l'azienda che produce sedie in pvc non posso certo farmi cliccare da un'altra azienda che produce sedie in pvc pure lei perché quello è il mio concorrente ho capito che dobbiamo concorrere ma il concorrente il link non me lo dà vedi che l'italiano è una lingua difficile perché io non dovevo dire che concorrono a creare valore dovevo dirla direttamente per poetica che corrono insieme che viaggiano su binari paralleli per creare valore per il pubblico ma mi sto incartando su sta cosa ma perché mi stai facendo tutte queste domande strane che non si capisce niente allora amici amici di SiteGround quello che dovete trovare sono gli interlocutori trasversali ve lo dico che cosa sono ma sì ma parliamo allora gli interlocutori trasversali sono appunto persone con cui sviluppare relazioni eh cerco di dirlo nel modo più semplice possibile sono altri siti web altri siti web ora vi faccio vedere anche un esempio su Semrush altri siti web gestiti da persone che hanno sviluppato un progetto per il quale esiste lo stesso pubblico di riferimento che hai tu però il modello di business è diverso e questa è la grande la grande differenza la grande innovazione cioè devi intercettare adesso vi faccio un esempio preciso così si capisce proprio bene 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 dovete intercettare altri siti che intanto nel modello di business non abbiano vendervi un backlink perché altrimenti facciamo subito un esempio poi andiamo sul software a vedere di cosa sto parlando immaginati un tour operator che vende i pacchetti di escursioni sull'Etna ok questo tour operator se volessimo fare classica link building sul blog potrebbe rivolgersi questo diciamo è intuitivo diciamo ce lo direbbe anche qualunque software ai travel blogger quindi io tour operator contatto il travel blogger mi puoi mettere un link per il mio mi puoi dare un link quando vai a vedere l'Etna così puoi dire che ci sono io che vendo i pacchetti turistici e va bene così mi posiziono e lo dice sì sì senza problema però mi devi dare tot soldi mi devi dare 100 euro mi devi dare 1000 euro mi devi dare 2000 euro dipende da quanto è famoso questo travel blogger ok va bene certamente va bene se è famoso va bene però sai che succede questo travel blogger ti vende un backlink tu te lo pianti cioè lui se lo pianta sul sito e ti arriva una bella spinta questo immagina che sei uno che fa un sacco di traffico però che succede lui c'ha il blog l'articolo nel quale ti ha messo il link domani mattina starà un po' più giù perché sarà uscito un articolo nuovo continuerà a spingerti però dopo domani uscirà un altro articolo ancora e quello scenderà ancora scenderà ancora nel blog proprio nella home page del blog di questo travel blogger e questo backlink l'articolo che lo contiene col passare del tempo magari prenderà meno visite di prima poi comincerà a scrivere anche altri articoli sullo stesso argomento insomma sono problemi perché ti sto dicendo questa cosa perché un backlink non è più come prima tanto importante tanto posizionante solo nella misura in cui esiste ma sempre di più nella misura in cui gli utenti ti fanno click sopra quindi un backlink spinge non perché esiste sul sito trust ma perché porta traffico da un sito all'altro sto dicendo una cosa pesante fate molta attenzione cioè il valore del backlink è sempre meno legato al backlink in sé sul sito trust è sempre più legato alla sua capacità di mettere in relazione i due siti per questo dicevo cosa è una relazione tra siti web cioè ma questo backlink ok abbiamo capito si trova su un sito fichissimo ma quanta gente porta se via via ne porta sempre meno vedrai che anche il potere posizionante di quel backlink diminuisce e se questo potere posizionante diminuisce che succede? succede succede che non spinge più e se non spinge più tu rimani lì un po' fregato porca paletta ha speso un sacco di soldi per questo backlink e adesso non spinge più non sarebbe forse stato meglio fare come aveva detto Francesco Margherita in quel webinar di SiteGround che vi di tempo fa ma non ero neanche troppo attento quel giorno vabbè ma è sì 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 allora allora la cosa pesante che vi sto dicendo è che paradossalmente paradossalmente stanno diventando più potenti i backlink i segnali diciamo che dovrebbero essere sterilizzati mi spiego allora un backlink quando ha l'attributo no follow per esempio i backlink nei commenti quando appunto su un blog scrivi un commento e aggiungi un link al tuo blog ecco quelli lì non sono posizionanti perché hanno appunto il no follow che è un attributo che dice a Google di non infilare quel backlink nel link graph cioè di non valutarlo di non tenerne conto però attenzione se attraverso quel backlink in quel commento cosa che di solito non succede ma se dovesse succedere che attraverso quel backlink ogni giorno arrivano 100 persone sul tuo sito e allora attenzione il backlink è no follow però in termini indiretti abbiamo una spinta posizionante per il sito quando dicevo queste cose anni fa i guru della SEO mi bastonavano proprio ma non è vero non posiziona non è che non posiziona è che giustamente se il commento è wow nice post oppure bellissimo lo consiglio a tutti i miei amici link link al sito è insomma è chiaro che non sposta niente ma immaginate per assurdo che un commento dentro una discussione aggiunga realmente valore a una pagina di blog al punto che le persone siano portate a cliccarci sul serio allora attenzione la spinta indiretta diventa più forte del segnale diretto non commettete la leggerezza forse era congiuntivo non commettiate la leggerezza di credere che un segnale di ranking indiretto come un backlink no follow appunto un link nei commenti sia in assoluto o meno posizionante di un segnale diretto cioè un backlink normale di quelli che spingono oggi mi devo per forza attirare le ire dei link builder se no di che stiamo a parlare dunque quali sono questi interlocutori trasversali intanto vediamo io che cosa ho scritto in queste in queste slide allora no le slide sono semplicemente le risorse queste adesso le tolgo queste che vedete qua sopra sono delle risorse che trovate sul mio modo di intendere da link building e che domani immagino Luca vi farà trovare anche nel blog intanto eh sì allora intanto escludiamo questa roba torno io guardatemi in tutta la mia abeltate ok escludo anche questo e vi faccio vedere un'altra roba un'altra roba adesso io vorrei ricondividere lo schermo non mi mostro troppo perché sono anche un po' timido condividi allora adesso se la madonna di piedi grotta mi assiste voi dovreste star vedendo click to close message ecco una finestra di sembra allora questo qua è un sito che vende appunto lo dicevo prima vende le produce in realtà e vende delle sedie in pvc è un sito che c'è anche una bella crescita ultimamente mi fa molto piacere per loro allora questo sito sembra avere una bella crescita stiamo vedendo su Semrush ma insomma come faccio a trovare questi interlocutori trasversali io intanto vado a vedere ah la prima cosa che faccio ve lo faccio vedere subito allora vado sul gap di backlink gap di backlink ok questo allora il gap di backlink è un tool molto figo di Semrush che mi permette ecco qua abbiamo questo sito mi permette di prendere per esempio prendiamoci tavoli design questi sono quelli suggeriti però in realtà io posso adesso sto prendendo questi per velocità però potrei andarmi a prendere anche una lista più ricca di interlocutori con tutte le metriche cioè quanto traffico fanno quante chiavi posizionano eccetera io adesso ne prendo ne prendo alcuni diciamo così tavoli.net ok va bene trovo prospetti diciamo che il mio sito è questo qua il primo dopodiché lui mi dice ecco qua allora mi fa vedere tutta questa roba e mi dice che questo tavoli design prende quattro link da questo sito noi niente allora la prima cosa mi dice tutti i siti da cui questi altri tre interlocutori prendono backlink e noi no e noi no quindi sempre zero 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 significa che da questo sito qua che si chiama bilalarticles.com ecco store design prende un link tavoli.net prende un link posso anche vedere di cosa si tratta perché io posso cliccare qua sopra ok e così me lo vado a vedere ok e mi dice esattamente questo qua magari questo adesso è una directory lascia perdere ma non è importante chiaramente questi sono studi che a me richiedono a me uno studio del genere richiede un paio di giorni perché perché devo innanzitutto pulire questa lista fra tutti questi siti devo andarmi a prendere appunto quelli che hanno più senso quelli che hanno i valori più alti me li devo aprire molto spesso devo andare a vedere che sono ok dopodiché vado a vedere quali pagine dei concorrenti più interessanti che non sono quelli che ho scelto a caso adesso ma sono quelli su cui ci ho passato più tempo per analizzare quali pagine ricevono quali backlink che mi faccia un'idea perché faccio tutta questa cosa semplicemente perché in una fase di lancio potrebbe essere opportuno ricalcare la strada già percorsa dai concorrenti più interessanti significa mettersi in scia ok la prima cosa che fai quando tenti il sorpasso della macchina che ti sta davanti è metterti in scia quindi avendo anche una disponibilità ma poi al di là di tutto posso dire adesso qui stiamo vedendo tutti i siti vabbè che magari fanno parte piuttosto del sottobosco del web terzi livelli strani cose un po' così ecco per esempio c'è pianeta donna pianeta donna è un sito di tutto rispetto ok per cui io potrei pensare che è un backlink pianeta donna clicco qua sopra me lo vado a vedere tavoli.net prende appunto secondo semrash prende questi due link da pianeta donna quindi io posso andarmeli a vedere e suggerire eventualmente al sito che sto esaminando all'azienda che sto curando in questo momento di prendere questo backlink questo è una fase iniziale nel senso sì una campagna di link building classica che non si basi sulle liste di cui ho parlato all'inizio e che per me sono il male una campagna di link building classica può cominciare in questo modo quindi può cominciare dall'idea di mettersi in scia quindi prendi un tool come questo appunto il gap di backlink di semrash e vai a vedere chi prende il backlink su quali pagine come sono fatti questi backlink ed eventualmente provare anche noi a fare una basimile da qui vengono fuori anche dei spunti molto spesso ecco appunto il backlink del forum appunto un backlink di natura conversazionale può essere utile per creare appunto uno strato iniziale ok fin qui tutto a posto adesso torniamo torniamo qui dove andiamo ok al mio sito ora diciamo che a me mi interessa capire questi interlocutori trasversali chi possono essere per un sito e-commerce dell'esempio che stiamo facendo che vende sedie in pvc sostanzialmente le vende questo sito qui le vende business to business quindi le vende ad altre aziende a chi le possiamo vendere queste aziende ma allora competitor organici principali ecco questa è una lista interessante Samrash arrivati a questo punto Bellelli ok mi dice che ci sono tutti questi siti tavolisedie.com che ha 60 parole chiave in comune e posso anche vedere quali sono mi dice anche il traffico su base statistica ovviamente non è analytics questo qua eh ragazzi qui escono fuori in grosso modo tanti altri sì ci possono essere dei magazine che trattano il design ci possono essere dei siti che parlano di illuminazione sì va bene ma un e-commerce che vende lampade potrebbe avere interesse a darmi un link sì può darsi magari hanno un blog interno sì 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 ma non siamo ancora abbastanza trasversali quello che vi voglio dire è che uno che studia le dinamiche di posizionamento arrivato a un certo punto pur trovando estremamente utile ed efficace questo software appunto Samrash deve saperlo anche chiudere deve sapere anche intuire quali possono essere le strade laterali ok io sono il peggior ambassador di Samrash della storia perché è arrivato a un certo punto vi dico chiudetelo Samrash e cominciate a ragionare ad un livello altro quindi io penso sempre che da un momento all'altro me la tolgono questa ambassadorship non so neanche se esiste il termine ambassadorship deve essere un nuovo codio come quelli che faceva Bonolis quando vendeva i pacchi comunque vabbè lascia perdere questa cosa lo spunto è che considerando che questi vendono le sedie e le vendono in stock mettendomi un po' a fare ricerche studiando intuendo la soluzione e soprattutto avendo un po' di esperienza in questo settore essendo qualche settimana che faccio questo mestiere ecco mi sono venuti in mente degli altri segmenti da esplorare in particolare ho pensato a tutto il comparto degli eventi no perché è chiaro che se vendi le sedie business to business possono essere degli interlocutori interessanti quelli che organizzano eventi e quindi chi è che organizza eventi allora comincia a fare altre ricerche incrociate usando SEMrush a partire da quello che dice Google certamente però usando SEMrush per mettere insieme i dati e vengono fuori appunto i siti che ospitano Valda Memoria un progetto che ho studiato un po' di tempo fa però era divertentissimo appunto i siti che fanno da portale per trovare la location per organizzare un evento oppure le sale conferenza che molto spesso hanno dei come si dice dei siti ad hoc a volte si trovano dentro gli alberghi quindi vai a trovare una vai a fare una ricerca per tutti gli alberghi che hanno sala conferenza ancora tanti eventi ecco per esempio immaginati il mondo del wedding degli interlocutori trasversali possono essere i wedding planner certamente perché i wedding planner sono quelli che curano gli allestimenti per i matrimoni quindi magari si appoggiano a una struttura che certamente ha già le sedie e ci mancherebbe pure però si vuole creare un allestimento particolare sapete oggi quanto vanno le cose particolari tranquilli che quando cercate di vendere cose a chi c'ha i soldi non sbagliate mai quindi tutto l'ecosistema del wedding quindi tutti i mestieri che stanno dentro al mondo del wedding possono diventare star nuditori allora metti un sito un portale del wedding importante dentro Semrush e usciranno fuori a valanga centinaia di altri siti correlati quello è interessante non tanto questi qua perché questi qua sono concorrenti sono giornali di settore sedia a reda vedi sì ci sono anche dei siti interessanti qua dentro sicuramente questa è la prima cosa che faccio andare a studiare i siti web in topic quindi quelli proprio a tema però la differenza la zampata quando ti sei inizialmente messo in scia con il tool gap di backlink e quindi sei andato a vedere i concorrenti più interessanti da chi prendono link la zampata la tiri così la tiri andando a fare quel passo di lato e inquadrando appunto quegli altri interlocutori che non gliene frega niente di venderti un backlink perché hanno un business completamente diverso però incredibilmente possono avere lo stesso pubblico di riferimento tuo e allora largo largo alle collaborazioni di ogni tipo anche alle come si dice anche alle partnership le partnership basate sui guest post sicuramente ma anche a quelle basate sui link di affiliazione no mi viene in mente aspetta la tolgo questa finestra perché così ritorno io ecco mi vengono in mente per esempio nell'esempio che facevo all'inizio cioè il famoso tour operator che poi non ve l'ho mai chiuso ve lo chiudo adesso vediamo se siete preparati vediamo se siete bravi tour operator che organizza le escursioni sull'Etna non si rivolgerà al travel blogger però potrebbe trovare molto interessante fare una bella ricerca incrociata per andare a inquadrare a intercettare tutti i siti e-commerce che vendono le attrezzature da trekking le attrezzature e l'abbigliamento da trekking perché scusami devi salirci sull'Etna e ti servono gli scarponi ti serve un abbigliamento tecnico hai bisogno di che ne so quei bastoni che si portano da sopra poi vuoi anche essere alla moda ti metterai non lo so un occhiale con una tinta un po' particolare insomma vuoi fare un figo sull'Etna o ci vuoi andare così mica uno sale sull'Etna all'improvviso no allora quanti di questi siti e-commerce che vendono attrezzatori da trekking hanno un blog interno e tieni conto che questi saranno ben felici di ospitare un tuo contenuto tu che sei tuor operator è un tuo contenuto autorevole che parla veramente ti dà veramente informazioni utili di prima mano su un'attività per la quale questi vendono le attrezzature ma ancora di più in realtà vedete quando cominciamo a ragionare degli interlocutori trasversali a questo livello il backlink in sé è anche l'ultima cosa che mi interessa quello che mi interessa è sviluppare una partnership cioè non è possibile inquadrare un tipo di rapporto tra queste due entità appunto l'e-commerce di attrezzature tecniche e il tuo operator se tu compri attrezzature da lui passando per quel link hai uno sconto quindi tutti i fantomatici circuiti di affiliazione gestibili attraverso appunto questi URL che hanno dei suffissi particolari che consentono poi il tracciamento questo è importante i link di affiliazione hanno sempre l'attributo sponsored o comunque succedere o di no follow quindi una roba che non posiziona però attenzione quando ti muovi bene sui programmi di affiliazione con la tua azienda riesci ad avere tanti publisher affiliati ma quello è il miglior posizionamento che esiste diciamo ma quelli però quei backlink sono sterilizzati hanno lo sponsored del no follow quelli non spingono ragazzi cioè dietro questi backlink c'è gente che si adopera ogni giorno per cercare di fare posizionamento cioè c'è gente che vuole portare il proprio traffico a cliccarci su quei link quindi non parliamo del travel blog famoso di cui parlavo prima che si è preso 2000 euro per metterti questo link l'ha piantato lì sulla pagina del suo blog e poi non ti ne frega più niente quando ti muovi sugli affiliati stai avendo a che fare con persone che hanno tutto l'interesse non solo a portare gente a vederlo quel link ma proprio a cliccarci sopra e quindi che cosa ti voglio dire ti voglio dire che se ti muovi in questo modo sviluppando appunto un buon ragionamento su quali debbano essere gli interlocutori trasversali e non è per niente banale questo non è banale capire chi sono perché per esempio facendo uno studio questa è un'altra cosa che mi viene in mente adesso e poi chiudo giuro che mi fermo su sta cosa ho lavorato alla pianificazione strategica di un progetto che commercializzava i tappetini per i cani i tappetini igienici per i cani perché dovete sapere che i cani oggi sono un po' come i seo non gli va di fare niente quindi anche quando devono fare la pipì intanto sei scomparso come telecamera ti sento ma non ti vedo non so cosa succede come sono scomparso è scomparsa la ma stavo facendo anche delle facce divertenti forse quello comunque ho quasi finito ho quasi finito ci accorgemmo che Roberto ha scritto io lo vedo io sento e vedo vedi che mi vedete allora l'esempio che stavo facendo è ecco progetto che vende tappetini igienici per cani perché anche il cane deve poterla fare in casa non sotto il padrone mi ero accorto che tra gli interlocutori trasversali c'erano i tappezieri cioè quelli che ti quelli che vendono le tende quelli che vendono i tappeti produttori di tappeti riparatori di tappeti tappezieri in generale dice perché perché il cane se non esce di cani ma queste sono cose che non ti accorgi subito sicuramente non te lo dice il software ci devi sbattere la testa lo devi studiare è anche molto ispirato sto ancora pensando a sta cosa di layout shift sul blog ragazzi è una serata terribile io stanotte mi addormento singhiozzando lo andiamo a prendere stasera dai è terribile comunque mi accorsi di questa cosa cioè che lui poteva avere campo largo perché perché le stesse persone interessate nel tappetino igienico per i cani le stesse ci accorgemo che erano interessate anche nella tappezzeria della casa quindi in tutto quello che è il lavoro di chi vende tappeti li ripara e tappezzeria da quel momento in avanti la partita è stata un viaggio in discesa perché si è fatto presto a individuare una lista e a contattarli tutti per generare appunto le famose relazioni di cui parlavo Luca io mi taccio anche perché guarda 19.40 preciso eccomi qua tra l'altro sono stati bravissimi anche tutti quanti che di solito si scrive un sacco in chat invece sono stati tutti attenti devo dire che hai un gran vantaggio secondo me che hai un modo di parlare di atteggiati che incanta ma in positivo ovviamente e quindi staresti ora a seguire tutte quelle che sono le acrobazie e i percorsi attraverso quali ci porti devo essere sincero quindi veramente grazie tra l'altro chiarissimo tutto il discorso questo volevo chiederti se si era capito anche qualcosa di quello che ho detto assolutamente no assolutamente e il è vero che sicuramente quello che dici te ossia che nella tua spiegazione vai anche contro quelle che sono poi quello che tante persone dicono soprattutto ovviamente esperti SEO però io trovo anche difficile andare contro quello che dici nel senso che c'è una chiara oggettività di quello che tu racconti prima tra tutti allora diciamo che c'è un fil rouge che lega un po' delle cose che tu hai detto con tante cose che mi capita a me di dire in altri contesti o che abbiamo già detto qua nei webinar prima di tutto l'utilizzo diciamo l'utilizzo dei tool delle piattaforme utile sicuramente ma che deve essere un supporto a quello che è il primo strumento che noi dovremmo utilizzare che ovviamente è il nostro cervello perché è ovvio tu dici io sono un cattivo brand ambassador di semrush in realtà sì è vero perché tu dici usatelo ma allo stesso tempo lasciatelo perdere però in realtà è inutile mentire agli utenti perché si farebbe si farebbe diciamo tutto il contrario di quello che poi un brand ambassador dovrebbe fare perché è inutile dire usa solo il mio strumento perché quello ti basta perché non è la verità ma non perché semrush non funziona non perché sidegram non funziona ma perché serve qualcos'altro serve una brillantezza una lucidità una voglia di provare a fare di pensare a quello che si fa quindi questo sicuramente poi mi è piaciuto anche molto quello che hai detto sull'affiliazione perché mi è capitato anche a me tante volte di dirlo un po' come chi fa link building e chi fa affiliazione non si deve pensare che un affiliato è un cioè l'affiliazione funziona se io mi affiglio e metto il link affiliazione sul mio sito e il lavoro è fatto ci deve essere un lavoro un progetto dietro altrimenti l'affiliazione non funziona come non funziona link building come hai spiegato te cioè non può essere semplicemente l'applicazione di un link o due frasette dette così ci deve essere un lavoro una strategia perché può funzionare un giorno due giorni tre giorni ma poi nel tempo nel lungo termine non facciamo mai lavori che non ha senso fare lavori che funzionano nell'immediato a meno che non ti portano milioni ma siccome questo non succede ci deve essere una strategia del lungo termine quindi veramente d'accordo e mi è piaciuta molto la tua esposizione detto questo ti ho fatto un sacco di lodi devo dire che abbiamo tempo per le domande quindi se avete domande ovviamente nella sezione Ask e Question qua sotto io ogni tanto non so perché ti vedo scomparire con la telecamera è un problema mio anche se sono host gli altri hanno detto che ti vedono tutti benissimo quindi meglio così se avete domande da fare a Francesco per favore subito nella sezione Ask e Question io intanto inizio a leggerti le prime e vediamo di allora vediamo ecco le quali le apro vediamo un po' che cosa ci riservano queste domande parto con una domanda di Emanuele che chiede se c'è un link dannoso da parte del mio sito e per esempio va su un sito web che viene rilevato pericoloso quanto tempo secondo te rimane collegato nei motori di ricerca per qualche giorno per qualche mese per sempre vuoi che te la rileggo non so se è chiaro no va bene allora attenzione a sto fatto dei link dannosi la famosa seonegativa no io ho trovato allora intanto aprite la search console cliccate sulla voce link andate a vedere i domini da cui vi arrivano backlink ok perché facciano male i siti i backlink che arrivano da un dominio devono essere buttati proprio a carrettate cioè devono essere proprio migliaia ok cioè le storie di seonegativa le storie quelle epiche quelle proprio signore degli anelli spostati cioè riguardano siti pagina in particolare che dovevano essere penalizzate e quindi i i seo black ci buttavano sopra tipo 10.000 backlink da siti 10.000 backlink da un sito sossissimo e funzionava poi altre 10.000 da un altro sito sossissimo ma se tu ne prendi uno o ne prendi tre da un sito che poi contiene spam non succede niente google ignora questi backlink quindi non state a pensare queste cose molto spesso vedete che c'è tutto un sottobosco ecco quando voi andate a vedere il vostro profilo backlink attraverso la search console troverete una enorme quantità di siti che vi lasceranno un punto interrogativo sulla testa ma questo che è ma cos'è sta roba ci andrete anche sopra non capirete niente perché perché esiste tutto un sottobosco di questi siti autoprodotti che generalmente servono a raccogliere statistiche che poi vengono usati da altri servizi ok quindi sono dei bot che ormai credo si generino anche automaticamente non so neanch'io come funziona però percorrono il web in lungo e in largo in ogni momento e ci sta che all'improvviso risucchiano anche la pagina del tuo sito e la link ma credetemi google questi li ignora completamente quindi a meno che non arrivino tantissimi backlink su poche pagine specifiche e questi backlink provengano da siti molto spesso con contenuti adult ok allora a meno che non succede questa cosa tranquilli tra l'altro Manuele stava specificando che parlava di link in uscita dal suo dominio il link in uscita dal dominio si può essere penalizzante c'è un caso storico di Riccardo Esposito che parlava proprio di una penalizzazione avuta su una pagina per un link in uscita chiaramente quando non vi sentite sicuri di una risorsa che state mettendo in uscita date un attributo no follow e state tranquilli ok prossima domanda in realtà qua le stanno votando quindi saltano un po' cosa ne pensi degli altri domandona cosa ne pensi degli altri concorrenti di SEMrush come mods oppure Ubersuggest penso siano tutti validi SEMrush io posso dire una cosa mods lo conosco abbastanza poco in realtà più Ahrefs conosco però vedete io quasi quasi ecco quasi quasi cambierei software dice perché me ne andrei da SEMrush perché perché lo aggiornano talmente tanti cioè ogni mese a me mi arriva una mail con tutte le cose nuove che hanno messo la suite questa io allora io non posso lavorare più io perdo ogni ogni mese perdo almeno 2-3 ore invece di lavorare a guardarmi tutte le novità perché poi se no faccio brutta figura capite anche perché poi ti cadono i capelli in blocco non è una bella cosa quindi se volete anche in SiteGround stiamo lanciando un sacco di cose nuove però io la spingo sempre perché dico pensate quante cose nuove mettiamo e invece dipende allora se ti piace un software che fa una cosa o poche cose fatte bene Ubersuggest perfetto va benissimo se hai bisogno di una suite elaborata perché magari c'hai un'agenzia di comunicazione magari la mattina ti metti al lavoro e sul tuo desk c'hai 20 progetti aperti e allora SEMrush ti serve chiarissimo altra domanda che mi è già capitata di vedere altre volte chiede Rosalia fare link building tra più siti di tua stessa proprietà può funzionare o è inutile? no può funzionare l'importante è evitare di tenerli tutti linkati nel footer sai nel footer io ho un network di 10 siti e mi faccio un bel footer in comune così tutte le pagine del sito linkano a tutte le pagine di tutti gli altri siti così è proprio il massimo della compenetrazione però questa cosa sebbene abbia funzionato in passato sarebbe da evitare il link è meglio tenerlo contestuale cioè se io ho un network di siti che parla di edilizia nel mio sito sui termocamini nella pagina del mio sito sui termocamini che parla dei pavimenti perché ci sarà stata un'affinità metto un link al sito dei pavimenti questo è il modo migliore quindi ad anello una pagina link a un'altra pagina sempre per criteri di pertinenza si è chiaro perché se uno ha un sito di calciomercato e poi di edilizia magari fare link sul proprio sito non ha proprio senso anche se sono di tua proprietà esatto poi c'è una domanda da Alessandro ma credo l'abbia fatta all'inizio perché la risposta sarebbe riguardo a tutto il webinar quando conviene se conviene scambiarsi dei link ma lo sai che sì allora ora dico una cosa che è un'altra di quelle robe da fustigarmi in sala menza da crocifiggermi anzi in sala menza avrebbe detto fantozzi dunque dunque le grandi aziende in questo periodo stanno contattando i grandi magazine per chiedere proprio un scambio link per esempio una grande azienda di e-commerce di arredamenti non faccio nomi adesso contatta un grande magazine nel settore beauty per dire ma senti sai che noi potremmo ospitare un tuo contenuto sulle tendenze moda pertinente con l'arredamento e di contro tu potresti ospitare un nostro contenuto sulle tendenze fra alcuni complementi d'arredo per creare diciamo delle sinergie si cerca di però è uno scambio link noi per dieci anni siamo andati in giro a dire che lo scambio link annulla il potere ma se io finora ho passato 40 minuti a dirvi che non è tanto importante il link in sé quanto il fatto che sposti persone da un sito all'altro e che il miglior posizionamento possibile è quello fatto con i link di affiliazione sebbene abbiano l'attributo sponsored o no follow allora capisci che anche lo scambio link se dietro c'ha un piano editoriale ha senso riacquista di nuovo senso chiarissimo è d'accordissimo domanda di Maurizio una buona relazione tra siti potrebbe essere tra un sito di studio legale è una domanda quindi la rifaccio facendo la domanda perdonami una buona relazione tra siti web potrebbe essere tra un sito di uno studio legale e il sito di uno studio di un commercialista che trattano ad esempio materia fiscale certamente certamente sì un sito un sito di natura legale vedete qualche anno fa c'erano le praterie per i siti legali legal web adesso invece stanno venendo fuori dei portali legal fatti veramente bene ed è un bellissimo esercizio mettersi a ragionare delle trasversalità perché l'avvocato può avere a che fare anche con gli esperti di di personal branding cioè mettetevi a pensare un secondo perché vengono fuori sicuramente adesso dovrei su due piedi è difficile insomma intanto non vedo più Luca si è oscurato che è successo? ma io non lo so probabilmente noi prima non vedo io te non vedi me non lo so io adesso non lo so misteri misteri incidono sul posizionamento i link che portano centinaia di utenti ovviamente immagino che faccia riferimento a link che vengono messi sui social in realtà parzialmente hai già risposto tu prima quando parlavi dei commenti del comment marketing chiamiamolo dipende da quanta gente sposti allora io una volta feci un articolo su SEO Garden un articolo in cui analizzavo il blog di Benedetta Rossi fatto in casa da Benedetta una food blogger che credo che abbia come 6 milioni di like sulla pagina Facebook quindi insomma roba grossissima lei venne a sapere che aveva fatto questa piccola analisi e condivise il link al mio articolo sulla sua pagina andò giù il sito perché presi troppe i SEO non sono abituati a fare tante visite insomma quindi io non è che ho il server di Amazon quindi andò giù il sito insomma dovevo fare ripristinarlo insomma così sui social l'era condiviso lei il link era sui social aveva dunque attributo a milioni visualizzazioni anche mensili sul sito se non sbaglio caspita quindi quel link appunto essendo un link no follow proveniente da Facebook non aveva alcuna spinta diretta però i posizionamenti del mio sito migliorarono complessivamente con tutta quella carrettata di segnali indiretti che arrivarono sul mio sul mio sito quindi è così che adesso dovete guardare i backlink ripeto l'ho detto prima non tanto come collegamenti per testuali che servono a gonfiare di rilevanza una pagina ma come relazioni tra persone e tutti quelli che rispondono dicono però mi sento bene meglio così meglio così siamo noi che ci vediamo ci sentiamo no io ti sento bene ma ogni tanto scompare allora vado un attimo a guardare un po' più inerenti perché sto guardando la domanda di Tiziano però anche questa parzialmente già risposta in realtà chiede ma nelle partnership con gli affiliati non vi deve essere scambio di link altrimenti c'è penalizzazione no nelle partnership quello che chiede Google quello che chiede Google è di tenere l'attributo il rel sponsored sui backlink non c'è necessità di scambiarli o di non scambiarli l'importante è che Google non infili i link affiliati nel link graph invece ti chiede Domenico questa è una domanda interessante secondo me se potresti dire due parole sul link building interno per siti molto grandi quindi corrono storne pagine basic dice eh questo è un tema che richiederebbe un po' è una domanda molto interessante una domanda molto interessante allora alcuni sostengono che più link in più il bot ha la capacità di muoversi la possibilità di muoversi su tutte le pagine da tutte le pagine meglio è in realtà no nel senso che si rompe la logica dell'ipertesto cioè Google deve avere dei livelli di profondità noi diciamo sempre che l'importante è che l'utente faccia pochi click per arrivare dove vuole andare ok questa cosa è vera ma se per fare pochi click mi ritrovo una struttura completamente schiacciata sulla home page cioè una struttura che da qualunque pagina mi consente di raggiungere qualunque pagina allora il bot perde la bussola quindi è molto importante creare internamente dei percorsi anche univoci cioè faglielo fare un click in più all'utente un po' come dire nel mega menu non c'è mettere le sotto 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 categorie hai presente quelle tendine che si aprono e poi vai sulla voce si apre la tendina poi la sottotendina poi la sottotendina e fammelo fare un link un click in più la sopra non essere caffone anche tu che mi organizzi questi mega menu per parte il mega menu ma tu sei andato sul sito di Apple ultimamente hai visto il mega menu sul sito di Apple ovviamente ma credo che siamo andati un po' tutti ieri dopo il keynote eh sì 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 ecco si è aperto Siri Siri non ti ho chiesto niente parli di Apple allora ho appena visto una domanda che mi è sfuggita perché poi ogni tanto le vuote mi saltano via allora chiedeva Roberto per chi fa siti web può essere ok mettere un link al sito che ha realizzato o viceversa quindi fare il link in questo modo io realizzo un sito metto il link poi dei siti che ho realizzato come portfoglio immagino ci deve essere una narrazione sicuramente è importante che il backlink al sito della tua agenzia non sia piantato lì nel footer quella è una posizione site wide cioè il link viene poi replicato per tutte le pagine del sito uno stratagemma interessante con cui se ne uscì Flavio Mazzanti una volta era dice vabbè allora sai che c'è nel footer io ti metto un link a una pagina credits che è una pagina del sito dove trovi i credits della comunicazione tra cui il sito della web agency meglio meglio così ottima soluzione infatti allora io direi siamo quasi a conclusione nel senso facciamo le ultime due domande se ci stai e poi salutiamo tutti quanti domanda sui domini sulle estensioni di domini in realtà .gov o nuovi domini come .bike hanno un valore differente? ma il dominio .gov ha più valore l'estensione .gov solo che per per avere un dominio .gov dovresti possedere una nazione fondamentalmente cioè i domini .gov non sono in vendita non mi risulta o se lo sono noi perlomeno come estensione non possiamo rilasciarla no sono domini governativi se non hai un governo però diciamo se casa tua è un'isola e l'hai resa indipendente potresti anche provare c'è uscito un film non lo sai non lo sai mai certamente il .gov il .edu che sono appunto domini estensioni istituzionali tendono ad avere più forza rispetto agli altri per tutti gli altri invece non c'è una differenza rilevata rilevata ecco quindi non ci sono dati allora l'unica differenza è che il .it sembra rispondere un po' meglio per le attività locali italiane quindi il dominio referenziato locale .fr .es risponde meglio per le attività locali nella regione tutto qui per il resto non c'è una differenza sostanziale allora vado con l'ultima domanda stavo un attimo leggendo selezionando parlando sempre di link building interno meglio aprire sulla stessa pagina o aprire su una scheda differente chiede se chiede Rosalia se cambia qualcosa in termini di tempo di permanenza dipende dal progetto in generale è difficile dire il tempo di permanenza è una metrica talmente complessa che non si può rispondere in un minuto senza conoscere il segmento di cui stiamo parlando però ecco meglio aprire le pagine interne senza il target blank quindi tenendole come si dice passando da una pagina all'altra senza aprire una nuova scheda anche perché poi quando apri una nuova scheda possono subentrare anche problemi di sicurezza per cui fai la scansione del sito con Screaming Frog e lui ti segnala un problema in più il lato SEO è meglio quando non c'è il target blank ovviamente stiamo parlando la domanda era specifica sul link building interno perché poi quando invece si fanno link su esterni non vorrei dire una cavolata ma a quel punto sarebbe conveniente invece fare una tab differente o sbaglio? ma in realtà allora è conveniente soltanto perché non stai buttando fuori l'utente dal tuo sito certo la scheda col tuo sito rimane aperta però in realtà in teoria il modo migliore sarebbe sempre escludere il target blank quindi avere sempre quello che dice è giusto perché rimane la scheda dietro però la soluzione più pulita è sempre spostare l'utente direttamente ottima informazione è per questo che invitiamo gli specialisti nel tema perché io ovviamente non sono uno specialista SEO ma allora io direi che siamo in perfetto orario abbiamo fatto un'ora secca e direi che è stata pregna di contenuti di domande di risposte e di quant'altro io ti ringrazio ovviamente non so come ringraziarti per questa per questa tua presenza per la disponibilità e ringrazio ovviamente tutte le persone che si sono iscritte che ci hanno seguito che ci stanno seguendo ancora adesso cosa dire allora grazie 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 ovviamente da parte di Sideground fra un mese ci ritroviamo con un nuovo webinar adesso fino a giugno l'anno prossimo uno via l'altro facciamo di solito sempre la pausa estiva di agosto e quindi ci rivediamo fra un mese domani vi arriva la mail con la registrazione di questo webinar le slide di Francesco le indicazioni sui prossimi webinar sul prossimo webinar che faremo l'anno prossimo il mese prossimo e questo è quanto io direi grazie mille grazie a te grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato buona serata e ci vediamo alla prossima io ti saluto Francesco grazie Luca grazie a tutti ciao a presto ciao a presto